Con Daris Amadio, vice allenatore del Volley Soverato, presentiamo questa partita di domenica prossima in trasferta a Ravenna, una trasferta ostica contro una squadra in salute. Soverato che ha interrotto la striscia negativa nel turno infrasettimanale di mercoledì vincendo con Olbi, adesso si va in trasferta per proseguire la striscia. Sì, la partita di Ravenna sarà molto importante per quello che riguarda noi, per chiudere il discorso play-off. Il problema è che anche loro adesso hanno riaperto la gara alla corsa ai play-off per gli ultimi posti, quindi sarà una partita decisiva. Ravenna ha buoni elementi, quindi sarà una partita molto interessante. Ecco, una squadra che rispetto al girone d'andata Ravenna sta facendo sicuramente meglio, vanta nel suo roster anche elementi di esperienza, in più si è aggiunto un nuovo acquisto proprio nelle ultime settimane, quindi sicuramente è una squadra che può ambire ad entrare nei play-off e quindi ha maggior ragione bisognosa di punti. Assolutamente, il nuovo acquisto, questa centrale va sicuramente ad arricchire quello che era già un parco attaccante importante e ci sono giocatrici che sanno cos'è questa categoria, non solo gente di A1 che scende in A2 per un anno ma è gente che l'ha già vinta e quindi sa anche certe partite gestirle e andarle a vincere. Quindi, insomma, noi andiamo là per far punti, per vincere logicamente, però sarà una gara tirata. Tornando indietro di qualche giorno, torniamo alla partita di mercoledì. Era importante tornare a vincere per interrompere, come dicevamo prima, la striscia negativa contro un avversario come Olbia che comunque sta lottando per la salvezza. Soverato che si è imposto 3-1 e sicuramente ha dato dei segnali positivi. Ora ci sono le ultime sei partite, praticamente un rush finale di stagione, si giocheranno altri turni infrasettimanali, quindi sarà importante affidarsi a tutte le ragazze del roster. La partita di mercoledì è stata importantissima per due aspetti. Uno perché avevamo interrotto con due sconfitte una serie di cinque vittorie consecutive e un po' ti viene un po' al braccino, no? Cioè nel senso di un po' paura di te stesso certe volte e la partita di mercoledì, l'aver perso il terzo set e l'aver vinto bene il quarto, è stata una reazione importante. Perché molte volte ci siamo incasinati la vita da soli e quindi come reazione è stata positiva. Per quanto riguarda il rush finale, sì, sono sei partite e come ho detto prima, appunto anche Ravenna ha riaperto anche per loro la corsa ai play-off. Sarà importantissimo gestire la squadra e che tutte siano pronte per dare il loro contributo, assolutamente. Laura Frigo, domenica si prospetta una trasferta difficile per il Vole Soverato che farà visita al Ravenna, che tra l'altro è la squadra che all'andata inflisse la prima sconfitta interna della stagione al tie-break al Vole Soverato. Sarà una partita anche importante in ottica classifica perché loro vogliono sicuramente vincere per alimentare il loro obiettivo, ovvero l'ingresso nei play-off. Il Soverato dal canto suo invece deve rafforzare questa posizione e possibilmente migliorarla in ottica post-season. Assolutamente, per noi è molto importante guadagnare dei punti per arrivare nella migliore posizione possibile in vista play-off e tentare di essere nelle prime quattro per poter giocare la maggior parte delle partite in casa. Perché per noi fare trasferta è comunque un impegno. Ravenna è una squadra che sta lottando per questo obiettivo. Hanno preso un centrale nuovo americano, molto forte, molto alto, ha delle potenzialità molto elevate. Cercheremo di marcare molto questo giocatore e noi siamo in buone condizioni. Arriviamo da una vittoria contro Olbia che ci fa bene al morale. Vedremo come va. Sicuramente sarà una partita diversa rispetto a quella dell'andata sia dal punto di vista tattico e tecnico e sia anche dal punto di vista del momento. All'andata Ravenna ancora non era in queste posizioni di classifica. Il Soverato invece era nelle posizioni medio-alte di classifica. Attraversava un buon momento e appunto giunse la prima sconfitta interna. Quali potrebbero essere le chiavi di lettura rispetto alla partita d'andata, oltre al nuovo ingresso nel ruolo di centrale dell'americana che tu prima dicevi? Secondo me, da canto loro, Bacchi è un punto fermo in quella squadra e secondo me è anche molto lago della bilancia. Nelle partite in cui ha giocato bene e è stata positiva, molto spesso è successo che la squadra avesse vinto. Quindi cercheremo magari di stare molto addosso a lei anche con la battuta e cercheremo di metterla in difficoltà. Per il resto, direi che la cosa più importante è cercare di essere concentrati su noi stesse perché è quello che a volte invece non ci permette di esprimerci come vogliamo e quindi anche a volte di perdere qualche setto o addirittura la partita. Tra l'altro il Vole Soverato, al di là dell'ultima trasferta, è una squadra che paradossalmente fuori casa rende di più, ha vinto più partite, ha raccolto più punti. Sì, qualcuno dice che può essere il fattore casa, fuori casa. Secondo me è un aspetto mentale, psicologico nostro. Non credo che valga questo discorso. cercheremo di portare qualche vittoria in più in casa perché fa bene al morale, fa bene a tutti.